A Silvi sono ripresi i lavori per il completamento del progetto regionale di difesa della costa sud. Ultimate le opere da terra e i cosiddetti pennelli, ora si passerà alla chiusura delle celle, portando a termine la sistemazione delle barriere soffolte longitudinali. Sono ripartiti finalmente i lavori gestiti dalla regione Abruzzo. Entro il 31-12 dovrebbero concludersi. Questo è il primo lotto. È un lotto che da diversi anni si attendeva questa fase terminale di queste opere e naturalmente noi stiamo già lavorando con la regione Abruzzo per poter appaltare un secondo lotto fino a Piazza Colombo e dare la possibilità nel tratto più eroso della nostra città di finalmente risolvere il problema. Secondo quanto appreso dagli uffici tecnici regionali saranno poste in opera circa 40.000 tonnellate di massi che saranno utilizzati per completare le barriere soffolte in modo da realizzare, come previsto dal progetto, la chiusura delle celle collegando le teste dei pennelli verticali già realizzati. L'intervento principale adesso è stato fatto sui pennelli, ma naturalmente con la Draga stiamo aspettando l'intervento invece sulle barriere soffolte che verranno messe a posizione diciamo a 200 metri dalla costa, dalla battigia. Noi crediamo insomma che almeno arrivare fino a Piazza Iris, dunque al centro città, per poi sperare che con le barriere, gli scogli naturali che sono presenti a Piazza Marconi potrebbero interrompere questo fenomeno che avanza verso nord ormai da anni. Con queste opere, secondo l'amministrazione comunale, sarà possibile assicurare sin dalla prossima estate a tutti gli operatori, ai cittadini e turisti di quel tratto di costa una stagione balneare senza problematiche di erosione. Stiamo collaborando con la regione, col settore opere marittime, siamo convinti che entro l'anno avremo concluso questo primo lotto e sicuramente sarà appaltato il secondo. Naturalmente il mare non aspetta, la fase erosiva va avanti e dobbiamo sicuramente praticare e regolamentare un piano generale di interventi anche per il futuro. Abbiamo difficoltà adesso nel tratto centrale, ecco perché chiediamo con insistenza un piano generale anche per il futuro perché sicuramente nei prossimi anni avremo difficoltà in altre aree.